Siamo con Borselli qui sotto la pioggia, al volo, partita da parte tua di grandi sacrifici sulla fascia destra, avevi un brutto cliente, Gabrielli cercava di puntarti sempre, poi sei stato messo a centrocampo, lavoro utile anche lì, dove generalmente sei a casa tua perché è un ruolo naturale. Sì, sì, ovviamente io come sapete nasco centrocampista però ultimamente, le ultime settimane l'ho fatta la terzino, mi sto adattando penso bene, logico ci sono delle difficoltà che devo incorrerci per forza perché non si nasce imparati e c'è sempre da migliorare, logico oggi è una vittoria che indipendentemente dal sacrificio fa piacere per tutti. Questo è un grande gruppo, primo posto in classifica per la prima volta nella stagione, arriva il derby, un derby sentito perché comunque c'è rivalità tra le piazze e poi c'è l'allenatore che è Bifini, è un grossetano che vorrà fare lo scherzetto. Con il derby sappiamo che la tifoseria, la società ci tiene, il mister Sida e Poggi Ponsi l'abbiamo già incontrato in Coppa, sono una squadra difficile da affrontare, noi ci prepareremo come sempre al massimo e ci faremo trovare sicuramente pronti. Bene, noi attendiamo che facciate questo regalo alla piazza Biancorossa, sarebbe importante, ci lavoriamo tutti e ci vediamo a Grosseto. Certo, ci vediamo a Grosseto in numerosi perché ci sarà bisogno di tutti. Bene così.